Confimprese Taranto, Confederazione Sindacale e Datoriale delle Micro, Piccole e Medie Imprese, Viale Magna Grecia 189 Taranto. Confimprese si occupa di sicurezza sul lavoro, DVR, tamponi HACCP, corsi iscrizioni Camera di Commercio, corsi sicurezza sul lavoro per dipendenti e datori di lavoro e tanto altro ancora. Confimprese Taranto, Confederazione Sindacale e Datoriale delle Micro, Piccole e Medie Imprese, Viale Magna Grecia 189 Taranto.